Logos Web Radio Il primo viaggio che ho fatto è stato nel 2004 ed è stato in Ruanda. È stato di fondamentale importanza l'orientamento che hanno fatto le scuole superiori al Salvemini a Casa Lecchio perché ho potuto conoscere varie associazioni. Prima di partire ho fatto un corso molto lungo di sei mesi nel quale ho potuto conoscere persone. È stato un modo per conoscere i vari paesi presso i quali poi i volontari sarebbero partiti, quindi il contesto attuale e anche il contesto storico. Poi sono partita dopo questi sei mesi con un gruppo di sette persone in Ruanda. La mia grandissima fortuna è stata quella di conoscere il francese perché ero l'unica che sapesse parlare in modo abbastanza corrente la lingua e quindi molti ragazzi di questo centro si rivolgevano a me e quindi parlavano molto a me. Per il primo anno questa associazione aveva organizzato una missione un po' particolare, quella di andare a viaggiare per il paese, quindi io ero nella capitale Kigali, ho viaggiato verso il confine con il lago Kivu che è nella Repubblica Democratica del Congo, verso il Burundi e verso l'Uganda e ho potuto fare delle varie interviste a piccole associazioni informali, ovviamente associazioni di cittadini che si stavano creando in Ruanda. Io sono stata nel 2004, quindi era l'anno del decennale del genocidio, quindi un anno un po' particolare nel quale proprio varie iniziative di pace, iniziative di associazionismo tra gruppi di persone, specialmente gruppi di donne, era abbastanza attiva. Quindi io cercavo di fare insieme ovviamente a tutto il resto del gruppo delle interviste, del raccogliere informazioni e fare una sorta di diario di campo, di conoscenza del contesto culturale e sociale per cercare di capire come sarebbe stato possibile, se sarebbe stato possibile, fare, organizzare una piccola cooperazione. Per quanto invece riguarda l'esperienza dell'India a Calcutta, che dal punto di vista della vicinanza con i malati, con le persone un po' più disagiate della società, come è stato l'impatto che hai avuto, ti ha turbato e come possono i volontari che vengono dal nostro tipo di società ricca e opulenta, riuscire a superare ed affrontare questo primo impatto. L'impatto sono stata, diciamo, come volontario, tra virgolette privato, nel senso che io sono stata a Calcutta presso le varie missioni del suore di Madre Teresa, quindi senza accompagnamento da parte di un ONG. L'impatto è stato molto, molto forte, sia visivamente, sia fisicamente, nel senso che ero molto a contatto con i malati, non solo bambini, ma soprattutto donne, anziani, diciamo, in qualsiasi parte della società era veramente una situazione che in ogni contesto in cui mi trovavo durante i momenti di aiuto era, mi verrebbe da dire, disarmante. Sicuramente, per specificare una cosa, che io sento molto che l'idea che dà a Calcutta, che sia molto più povero, pieno di problemi, di epidemie rispetto a Ruanda. Invece, sinceramente, io ho notato, non si tratta di parlare di un più o di un meno, cioè delle persone più o meno malate, più o meno disagiate. Secondo me, quello che nel mio piccolo, posso dire, è che si parla di una sostanziale differenza, sia di patologie, sia proprio di clima, di modo di trattare le malattie. In India, soprattutto Calcutta, è un paese disarmante per il fatto che trovi persone totalmente ricche, persone totalmente disagiate, veramente persone… Si capita di vedere persone morire per strada e vedere gente che cammina di fianco senza alcun problema, ma hanno molta acqua. C'è Calcutta, essendo sull'oceano indiano, è un paese che ha l'acqua, che però è un'acqua allo stesso tempo che distrugge, quindi porta batteri, porta malattie. Lì le suori hanno bisogno di volontari da tutto il mondo, di qualsiasi religione o una importanza, che operano, ma operano nel concreto. Dopo una breve conoscenza nella casa madre, si parte, ti dicono dove c'è bisogno e dove, ad esempio, uomini e donne possono lavorare, perché si lavora in modo abbastanza separato, tranne in alcune case, come la casa di Caligat, che è la casa dei moribondi, che è la prima casa che ha prima a De Teresa, dove lì si lavora tutti insieme. In Ruanda si cerca molto, forse perché c'è una presenza molto più cattolica, salesiana specialmente, si cerca più di fare sostegno, di educazione, anche a livello sessuale, mentre in India, ad esempio, un dato importante, un miliardo e centomila persone, la distribuzione, ad esempio, di preservativi, comunque di contraccettivi, era circa di 200 mila, o mi parlo 500 mila, quindi comunque molto, molto ridotta. Quindi ho riscontrato proprio due contesti sociali totalmente diversi, anche sotto questo aspetto, i volontari, come possono reagire, come possono trovare insomma un sostegno, sinceramente io credo che il sostegno si trovi sicuramente conoscendo i volontari delle altre paesi, gli altri ragazzi con cui si parte, le altre persone, perché il vivere insieme un'esperienza, anche con persone che non hai mai conosciuto, unisce tantissimo e ti dà la possibilità di chiedere aiuto a persone che prima non conoscevi, ma sicuramente, sono sincera, in entrambi i posti, io sono partita da sole e quindi credo che se non avessi avuto una forte motivazione mia, non sarebbe stato possibile. Tornando qui e parlandone con i tuoi amici, conoscendi, avendo un modo di parlarne anche con persone sconosciute, vedi che se qui da noi in generale ci sia un interesse verso questi temi? Quando sono tornata qua ho sempre avuto, soprattutto all'interno della mia cerchia di amici più stretti e di parenti, un forte interesse nel fare domande per cercare di capire. Io credo che assolutamente si sia mosso qualcosa, ma già da anni, e fortunatamente vedo, soprattutto nel contesto bolognese, che ci sono tantissime iniziative sia per fare conoscere e promuovere i campi di volontariato o in generale il volontariato all'estero e in Italia, anche i momenti di riflessione e di promozione. Grazie amici per l'ascolto, ci sentiamo alla prossima puntata dedicata al volontariato giovanile. Ciao da Manuela, blogoswebradio www.ilblogos.it